Bella a tutti ragazzi, sono Andrea e oggi vi farò vedere un gol impressionante, mai visto prima su PES 2013 per Xbox. Vai is the best! Va a conficcarsi nell'angolino basso. Guardate, ditemi se non è un gol. Non è un gol, non è un gol, non è un gol.